Rifiutopoli, cala il sipario sul processo. Tutti assolti, l'ex assessore Venturoni e una liberazione. Giulia Nova blizza l'annunziata delle forze dell'ordine, sgomberato un alloggio occupato abusivamente da una famiglia rom. Commercianti, il Black Friday arriva a Teramo, sconti fino al 30% in oltre 100 negozi e musica fino a tardanotte. Teramo, il mercato dei fiori tornerà in centro e per Natale i commercianti chiedono lo stop alla ZTL. Pari opportunità, solidarietà femminile bipartisan, la forzista del giovine difende la Verticelli, pugnalata dal suo PD. Bim, il presidente Iacchietti replica mercante, i sindaci mi hanno rinnovato la fiducia. Sport, calcio, Capitan Speranza parla delle prossime sfide, dobbiamo giocarle tutte come fossero delle finali. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Allora lo avete letto, in apertura dei nostri titoli, finalmente cala il sipario. Sull'inchiesta rifiutopoli, il Tribunale di Pescara ha infatti assolto Lanfranco Venturoni, Ettore Fernando Di Zio e Fabrizio Di Stefano. Gli imputati erano accusati di corruzione, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta. Per il giudice il fatto non sostisse i particolari nel servizio. Tutti assolti nel processo sulla rifiutopoli abruzzese, nato da un'inchiesta del 2008 e basato sulle vicende relative alla realizzazione di un impianto di bioessicazione a Teramo. Il giudice del Tribunale collegiale di Pescara, Angelo Zaccagnini, ha assolto perché il fatto non sussiste l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni, l'imprenditore Rodolfo Di Zio e il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano. Assolti per non aver commesso il fatto l'imprenditore Ferdinando Ettore Di Zio e l'ex amministratore delegato della società Team Teramo Ambiente Vittorio Cardarella. Gli imputati erano accusati a vario titolo di corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta e millantato credito. Il PM, Gennaro Varone e Anna Rita Mantini, nella loro requisitoria, avevano chiesto 5 anni di reclusione a testa per Venturoni e Rodolfo Di Zio, un anno e 6 mesi per Di Stefano e l'assoluzione per Cardarella e Ferdinando Ettore Di Zio. La sentenza è stata emessa dopo che il 30 ottobre scorso la Corte d'Appelo dell'Aquila ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata dai legali di Di Stefano nei confronti di Francesco Marino, uno dei componenti del collegio giudicante del Tribunale di Pescara. E' una liberazione, così Lanfranco Venturoni, ex assessore regionale della sanità della Giunta Chiodi, subito dopo la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pescara. Subito dopo Venturoni digita il numero della moglie sul cellulare e dice assolto, quindi torna a concedersi ai tacquini dei cronisti. E' finito un incubo, afferma l'ex assessore, che ha preso parte a tutte le udienze del processo. Sono sempre stato convinto della mia innocenza e sono contento che il collegio abbia compreso le mie motivazioni. Ringrazia pubblicamente i suoi avvocati e osserva. Credo che andando a vedere i fatti reali fosse chiaro che non c'era nulla. Venturoni vorrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma preferisce aspettare ogni cosa a suo tempo. E sul trattamento ricevuto dal mondo della politica regionale si limita a dire, la politica è una brutta bestia, lasciamola stare. 18 rinvii a giudizio e 3 patteggiamenti. Si è conclusa così stamattina l'udienza preliminare davanti al gruppo Domenico Canosa, che vedeva imputate 21 persone, tra cui italiani e stranieri, tutti accusati di falsità ideologica commessa da privato, in atto pubblico e favoreggiamento della permanenza sul territorio di immigrati clandestini. L'inchiesta, firma del PM Stefano Giovagnoni, è quella relativa alle false assunzioni di colf e badanti realizzate sfruttando la sanatoria del 2012 per l'emersione del lavoro irregolare e coinvolge, oltre ad un ragioniere commercialista della Val Vibrata, finito a processo anche in una precedente inchiesta relativa ad un'analoga vicenda, intermediari e presunti datori di lavoro. Datori di lavoro che, secondo l'accusa, dietro il pagamento di somme comprese tra i 1000 e i 3000 euro, avrebbero dichiarato falsamente come gli stranieri, per i quali si chiedeva la regolarizzazione, fossero alle loro dipendenze da almeno tre mesi. Accusa che hanno portato 18 persone a processo, con la prima udienza fissata per il 19 aprile 2016, mentre Antonella Tulli, Jamal Frindoi e Marcello Di Matteo hanno patteggiato una pena a 6 mesi e 1000 euro di multa. Il Comune non era riuscito a rientrare in possesso dell'alloggio pubblico occupato abusivamente da una famiglia di etnia a Roma, nonostante i ripetuti tentativi e questa mattina a Giulianova è stato necessario l'intervento di polizia di Stato, carabinieri e agenti di polizia municipale per sgomberare l'appartamento. La famiglia di Roma, nonostante avessero avuto torto nei giudizi civili avviati dall'amministrazione comunale di Giulianova per il rientro in possesso dell'abitazione, si era rifiutata di riconsegnare l'immobile precludendo nell'assegnazione ad un'altra famiglia più bisognosa. Gli abusivi infatti risultano essere proprietari di un ampio immobile ubicato in una zona residenziale di Giulianova di cui avevano ceduto lo sufrutto di un figlio per risultare senza abitazione disponibile. Il blitz per eseguire lo sfratto è stato pianificato nel corso di una riunione in prefettura alla presenza anche di personale del Comune di Giulianova. Secondo quanto riferisce la Polizia di Stato si tratta di un primo ripristino della legalità che precederà altre successive per consentire così di assegnare gli immobili di edilizia residenziale pubblica a chi veramente ne ha bisogno e per tali motivi è nella graduatoria pubblica. La tradizione statunitense del Black Friday arriva anche a Teramo dove i commercianti festeggiano in anticipo un Natale al suolo di sconti speciali e momenti di intrattenimento musicale per tutto il weekend. L'iniziativa mette insieme circa 120 commercianti del centro storico. Vediamo. Black Friday viene mutuato questo titolo, questo slogan, dalla crisi del 29 negli Stati Uniti invece per riproporlo in maniera positiva. Assolutamente sì, anche perché il 29 forse ci insegna qualcosa che è successo in passato e che stiamo forse vivendo in questo momento in maniera un po' particolare proprio perché stiamo vivendo questa crisi e cerchiamo di risollevare il commercio terramano con questa iniziativa. Come si articola? Tre giorni di shopping con la possibilità logicamente di avere sconti diciamo anche abbastanza importanti perché partiamo fino al 30% e quindi avremo il venerdì in cui accenderemo tra l'altro anche le luci e qui ringraziamo il comune per esserci stati vicini nella figura diciamo del sindaco. Poi il sabato avremo una giornata intera, saremo aperti fino alle 24 e avremo manifestazioni un po' collaterali con band che gireranno un po' per il centro storico e la domenica saremo anche lì aperti con gli artisti di strada. Quanti commercianti che hanno aderito a Sfoglia? Siamo oltre 120 commercianti, qui devo dire che va fatto davvero un ringraziamento anche perché sollecitati da questa iniziativa hanno risposto tutti in maniera immediata. Fare sistema, questa è la parola d'ordine, anche per questa manifestazione Assessore Tancredi? Io lo dico da quando mi sono insediato, se i commercianti fanno sistema, cioè mettono insieme le loro risorse possiamo fare iniziative che naturalmente noi sponsorizziamo, ci mancherebbe altro. Devo dire che stavolta sono stati bravi perché oltre 100 attività insieme fanno qualcosa e fanno degli sconti, fanno attività. Io credo che l'attenzione sul centro storico ma sul commercio in generale si riporta con queste iniziative. Smantellato il cantiere di Corso San Giorgio a Teramo, i lavori riprenderanno dopo le feste natalizie il prossimo 10 gennaio 2016. Intanto procedono i lavori nell'area della Madonna delle Grazie. Assessore Giovanni Giacomo, un po' prima del previsto è stato tolto il cantiere qui lungo Corso San Giorgio, i commercianti sono un po' più sereni in vista delle festività? Sì, ci avevano chiesto di rilasciare il cantiere per il 25 novembre, abbiamo anticipato un paio di giorni come negli accordi con i commercianti. È stato importante fare questi lavori preliminari che ci hanno permesso di capire moltissime cose, soprattutto per quanto riguarda i sottoservizi, gli eventuali ritrovamenti archeologici che c'erano su questo sito. Quando riprenderanno i lavori? Quando tornerà il cantiere lungo Corso San Giorgio? Tempo permettendo, logicamente, dal 10 gennaio dopo le festività natalizie cominceremo con la vasca di raccolta che verrà proprio in questo punto dove stiamo facendo l'intervista per proseguire speditamente, speriamo, fino a Piazza Caribale. Dunque il cronoprogramma proseguirà in maniera spedita perché abbiamo capito moltissime cose con questi scavi e dunque ci permetterà sicuramente di andare in maniera spedita. Stanno a buon punto anche altri lavori, mi diceva quello della Noi Lucidi. Sì, ieri sono ripresi i lavori della Noi Lucidi, abbiamo dovuto approvare una perizia di variante per i lavori fatti davanti alla Noi Lucidi, stiamo facendo dei percorsi pedonali protetti che vanno da Porta Reale fino a Via del Bendis, l'agenzia delle entrate, che permetterà di fare dei percorsi pedonali protetti per i pedoni perché lì c'è una zona un pochino in confusione, dunque stiamo lavorando in tutti gli altri cantieri per i fondi Pisu che accendono a scadenza 31-12, dunque sarà un mese di corsa, di passione ma anche se poi si vedranno i cantieri si vedono, domani inizieremo gli asfaldi per la pista ciclopedonale della Gammarana, dunque si stiamo muovendo e siamo a bonbono su tutti i cantieri, quelli importanti. Assessore, mi hanno segnalato delle difficoltà i portatori di handicap, quelli che vanno con la carrozzina nei pressi della rotonda nuova, quella di Ponte San Ferdinando, che hanno difficoltà a passare sui marciapiedi. Logicamente adesso sì, perché i marciapiedi ancora non sono conclusi, abbiamo concluso ieri, lì si stiamo lavorando, abbiamo concluso i marciapiedi, lato scuola ad Alessandro mancano completamente la paventazione dei marciapiedi degli altri lati però diciamo che i percorsi pedonali per i portatori, per i diversamente abili sono tutti garantiti con la realizzazione della nuova rotonda. Entro il mese di giugno l'amministrazione comunale interverrà sulla sistemazione del mercato del sabato mentre il sindaco ragiona sul trasferimento del mercato dei fiori in centro intanto solo per il periodo di Natale i commercianti chiedono al Comune la sospensione dell'accesso a video sorvegliato nella ZTL, il servizio. La tanto attesa rimodulazione del mercato settimanale del sabato e il foglio di via dal centro storico dei mezzi pesanti potrebbero trovare forse una soluzione definitiva prima dell'estate dal momento che a giugno scadono le concessioni del Comune agli ambulanti. In questo frangente l'amministrazione intende ragionare su una riorganizzazione complessiva. In quest'ottica un ulteriore provvedimento è stato annunciato dal sindaco Brucchi questa mattina a Teleponte per riqualificare il mercato dei fiori che da piazza San Francesco si sposterà in un'area del centro storico su cui si sta ancora ragionando. Probabilmente sarà piazza Sant'Agostino. Stiamo pensando e discutendo, anticipo una notizia insieme all'assessore Tancredi quello di riportare il mercato dei fiori in centro storico. Prima era in centro storico, adesso stiamo ragionando anche insieme agli ambulanti di trovare una giusta locazione. Questo permetterebbe, perché quella zona è un po' periferica, è vero che i fiori hanno i camion, i mezzi, riportandoli in centro, attraverso, sistemando in un certo modo, eliminando i mezzi, i camion, quindi facendo veramente un mercato dei fiori riqualificato con te io credo che si possa utilizzare, si possono e si devono utilizzare spazi in centro storico. Questo sempre in un discorso di ravvivare un po' quello che è la vita nel cuore della città. Intanto con l'avvicinarsi del periodo natalizio si fanno prestanti le richieste dei commercianti per una sospensione della ZTL, una richiesta che la categoria avanza anche alla luce del caos sui verbali sui quali gli esercenti attendono risposte dal sindaco per sapere le modalità con le quali avanzare le richieste di rimborso. Intanto, per evitare problemi e incoraggiare gli acquisti natalizi, gli esercenti hanno chiesto all'amministrazione uno stop al finzionamento dei varchi videosorvegliati, ma nell'ottica di una rivisitazione complessiva del regolamento. Questo poiché alcuni esercenti, a titolo di esempio, sostengono di avere serie perplessità di notte a recarsi nei rispettivi punti vendita quando suona l'allarme. Alcuni commercianti spiegano che il regolamento va calibrato meglio per le esigenze dei titolari delle attività, anche perché negli orari notturni chi si reca in centro ha reali necessità e certamente non inficia sul traffico il caos che si crea nelle ore mattutine. E restiamo a Teramo, finalmente ci siamo. La prossima settimana, il primo dicembre, riaprirà al pubblico la piscina comunale coperta di Teramo. Sindaco Brucchi, dovrebbe essere il primo novembre, sarà il primo dicembre, è così? Sì, doveva essere il primo novembre, sarà il primo dicembre. Le difficoltà da affrontare sono state diverse. Però diciamo che adesso abbiamo una piscina che ha vede rinnovati tutti gli impianti, c'è il nuovo gestore. Io so che c'è tanta attesa per la riapertura della piscina perché i vari utenti che in questi mesi si sono dovuti in qualche modo a casare su altri impianti, anche fuori città, non vedono di rientrare. Quindi stamattina ho fatto io personalmente l'ultimo sopralluogo, è tutto a posto, domani si continuano con tutte le verifiche finali. E il primo dicembre, la mattina, faremo la riapertura e poi dal pomeriggio cominceranno a tornare i ragazzi e gli utenti della piscina. Insomma, era, io ritengo, una scelta giusta, anche in condizione del fatto che stanno andando avanti le progetti del project. Però le progetti, sappiamo bene che sono molto lunghe, l'ufficio ha già scritto a chi ha presentato la proposta comunque di presentare tutti i vari atti e quindi siamo in attesa, ma comunque ci vorrà del tempo. E in questa fase, essendo l'unico impianto pubblico della città, io ritengo che era necessario riaprirla. Quindi riapriamo, primo dicembre, si riapre la piscina, ripeto, con tutti gli impianti sistemati e rinnovati e poi, insomma, vedremo. Intanto c'è un gestore che per un anno, con la possibilità di fare una proroga al secondo anno, terrà la piscina aperta. L'Istituto Braga, dopo aver iniziato l'attività didattica il 2 novembre scorso, ieri si è trasferito ufficialmente nei locali del Comi insieme al nuovo organico dei docenti. Vediamo. Siamo nell'aula di violino della nuova sede del Braga, cioè il vecchio istituto tecnico commerciale Vincenzo Comi su Viale Bovio e siamo in compagnia di un nuovo professore del Braga, il professor Massimo Fava insegna violino, viene da Foggia ma è di Nereto, quindi gioca un po' in casa. Intanto, soddisfatto di questa sede e di questo incarico? Ci mancherebbe. Io vengo da Foggia, quindi ho chiesto il trasferimento per avvicinarmi il più possibile a casa. Questo istituto lo conosco da una vita, perché da ragazzo i primi anni di insegnamento li ho fatti proprio al Braga. E oggi ci ritorno con più esperienza, chiaramente. Felicissimo, perché siamo riusciti dopo tanti anni ad avere un conservatorio, a tutti gli effetti, un istituto superiore di alta cultura a Teramo e questa è una grande risorsa per la città, per la provincia, se non addirittura anche per la regione, perché ne sono soltanto tre con questo in Abruzzo. Senta, professore, le aule sono ancora un po' sporche, i lavori sono in corso, però intanto la sede c'è e ho visto già dei ragazzi che stanno già lavorando, già stanno prendendo lezioni. Sì, la maggior parte degli insegnanti hanno iniziato le lezioni. Alcuni devono arrivare, saranno nominati presto, entro la settimana, al massimo la settimana prossima, al Ministero e quindi scorreranno le gradatorie e arriveremo ad avere il quadro completo degli insegnanti. Sa già quanti allievi avrà lei? Io ho già iniziato da tre settimane, faccio le lezioni dall'inizio dell'anno scolastico, ho una classe completa con undici alunni qui. Ne saranno altre tante undici a Genova, quindi le classi ci sono, i ragazzi ci sono e benvenga l'anno che arriverà, sperando di una fortuna. Grazie, grazie mille. Grazie. Mi dispiace per Lucia Verticelli, avrebbe dovuto essere lei la Presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. Purtroppo è stata tradita dal suo stesso partito, il PD Terramano. L'ex Presidente della Commissione, la forzista Desiree del Giovine, entra nel vivo della polemica dopo il rinnovo delle cariche, esprimendo solidarietà bipartisan, non solo di genere, il servizio. Desiree del Giovine, ex Presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, si è dimessa qualche tempo fa insieme a Lucia Verticelli. E continuano un po' di polemica sul rinnovo dei vertici, perché? Sì, io non volevo entrare in questa polemica. In questo periodo di tempo siamo state zitte e non abbiamo detto nulla. Ci siamo dimesse, io mi sono dimessa per solidarietà verso Lucia Verticelli, che è stata la mia Vice Presidente che mi ha sostenuto. Ci siamo sostenute e abbiamo collaborato al di sopra delle nostre parti politiche. Purtroppo siamo state tirate in campo di nuovo dalla Vice Presidente della provincia e quindi purtroppo devo replicare, anche se non è bello, mettere in conflitto delle donne. Questo non è mai una cosa bella. Però devo dire che il PD Terramano purtroppo non ama le sue donne migliori. E questo lo dico appartenendo all'area opposta a quella di Lucia. Lucia ed io abbiamo collaborato per il rinnovo dello Statuto, quindi se le nuove componenti sono state chiamate a questo nuovo impegno attraverso i curriculum è anche un po' opera nostra. Quindi ci è dispiaciuto e mi è dispiaciuto tantissimo vedere una persona come Lucia, valida, di valore, attivissima nel suo partito, pugnalata alle spalle proprio dal suo partito. Il PD Terramano, provinciale, non so quanti altri, non amano le sue donne migliori. E questa è una cosa, secondo me, e non solo secondo me, bruttissima. Il rinnovo della Commissione andava fatto, non c'è ombra di dubbio. Però si potevano usare altri mezzi, altre opportunità. Io voglio togliere da questo PD Terramano il presidente Renzo Di Sabatino, che ringrazio per la bellissima mail che mi ha inviato, ringraziandomi per il lavoro svolto e invitandomi a ritirare le mie dimissioni. Purtroppo io sono una persona coerente e solidale, non me la sono sentita. Sono stata vicina e sono vicina a Lucia Verticelli. E mi dispiace che proprio le sue amiche di partito siano state quelle che non l'hanno voluta in questa nuova presidenza, che toccava a lei senza dubbio. Cambiamo argomento, occupiamoci di sanità. Così com'è, la ASL unica non si farà, lo sostiene il consigliere regionale del PD, Luciano Monticelli, ritenendo che l'assessore regionale e la sanità Silvio Paolucci sia andato un po' troppo avanti. E sul punto nascita dell'ospedale di Atri, ha chiesto al governatore D'Alfonso di verificare la possibilità di una deroga alla chiusura. Vediamo. Monticelli, il fronte del no sulla ASL unica si allarga con una tendenza sempre più bipartisan. Lei di che parere? Noi innanzitutto dobbiamo difendere la ASL, ma dobbiamo anche difendere questa provincia che in questi ultimi tempi sta soffrendo un po' rispetto a una forza economica sociale che è quella di Pescara Chieti e poi sull'Aquila perché c'è ancora il sentimento forte del terremoto e quindi ancora deve superare alcune problematiche. Ma il terramano è quello che soffre in più. E io ritengo che se l'ASL unica venisse a Teramo, allora il ragionamento si potrebbe fare. Ma togliere una struttura così importante che è ramificata, che poi traccia comunque alcune direttive, ma soprattutto il rapporto con il territorio sarebbe ancora un colpo più duro per il terramano. Noi siamo come consiglieri del Partito Democratico appartenenti al terramano, siamo fortemente contrario e lo ribadiremo anche al Presidente che si deve discutere prima di prendere qualche provvedimento. L'assessore è andato un po' troppo avanti, per noi non va bene, quindi siamo sulla discussione e credo che su questo l'ASL unica non passerà. E' passato invece il punto nascita della chiusura del punto nascita di Atri, però proprio in queste ore c'è una riapertura, forse uno spiraglio. Si chiede di ragionare su una deroga possibile per Atri. Ma anche qui noi non abbiamo colto il motivo della chiusura del punto nascita di Atri, che superava anche le 500 nascite all'anno. Il decreto Lorenzini è uscito l'11 novembre, in cui richiede al CP nazionale, al percorso nascita nazionale, di verificare entro 90 giorni se anche le strutture sotto i 500 nascite possono essere salvate. Quindi è quello che noi da tempo dicevamo, che ci sono delle strutture, Atri in particolare, che sono a norma, che hanno tutti i requisiti, tranne la terapia intenziale a Natale, ma nella provincia di Teramo non esiste neanche uno che potevano essere salvati. Non si è capito e adesso ho chiesto. Devo ringraziare anche i colleghi, sia Mariani del PD, Gero Solimo e Oliveri, che hanno sottoscritto insieme a me una lettera al Presidente, in cui si impegna a chiedere al CP nazionale di verificare. Ci sono anche due aziende terramane tra le quattro abruzzesi che beneficeranno dei fondi derivanti dai contratti di sviluppo sottoscritti dalla Regione Abruzzo. Sono la Isatex SRL di Corropoli e la Eunix Lab SRL di Tortoreta. Quattro aziende abruzzesi consolideranno e rafforzeranno la presenza sul territorio, grazie in parte ai contratti di sviluppo locali sottoscritti con la Regione. Complessivamente l'investimento tocca i 10 milioni di euro, con una quota pubblica di oltre 1,2 milioni di euro, derivante dalla programmazione PAR-FSC come contributi a fondo perduto e una quota privata di 8,5 milioni di euro. Le aziende che hanno sottoscritto il contratto di sviluppo sono Isatex SRL di Corropoli, con il progetto di sviluppo e innovazione nella produzione di etichette tessute. Eunix Lab SRL di Tortoreto, con il progetto Tempest, Fonte Cal S.P.A. di Villanova di Cepagatti e Daeco Europe di Chietiscalo. A sottoscrivere ai contratti di sviluppo, il vicepresidente Giovanni Lolli, che ha parlato di momento importante e di segnale delle imprese abruzzesi, di voler resistere alla crisi investendo. Dunque, intanto distinguiamo, parliamo di un contratto di sviluppo. Qui sono operativi altri contratti di sviluppo, ce ne sono altri due, che abbiamo fatto uno sull'automotive e uno su tutta la regione, ce n'è un altro fatto sulla Valle Pegna e c'è un contratto di ricerca, oltre questo qui. I contratti di sviluppo per norma comunitaria non sono strumenti adatti per intervenire sulle aziende in crisi, quindi posti di lavoro da salvare, ci vogliono altri strumenti. I contratti di sviluppo sono tipicamente iniziative per aziende che debbano consolidarsi o crescere. In questo caso noi firmiamo oggi qui 4 contratti di sviluppo per le aree di crisi, sono 4 aziende, un investimento complessivo di 10 milioni di Euro, di cui la gran parte sono soldi privati, soldi pubblici servono a innescare e a contribuire all'investimento privato. Sono 4 belle aziende medie, che fanno attività molto interessanti, e adesso però la cosa vera è che noi finalmente, in questo ultimo periodo, io ci ho molto lavorato, insomma abbiamo sbloccato vecchi contratti di sviluppo che erano incagliati da molto tempo, quelli cofinanziati dalla Regione. Adesso approviamo questi e poi abbiamo aperto nuove attività. Il vicepresidente della Regione, Lolli, non ha mancato di annunciare novità sulla prossima programmazione 2014-2020. L'obiettivo, ha detto, è asciugare quanto più possibile l'iter burocratico di accesso ai finanziamenti. La parola d'ordine, ha concluso il vicepresidente, è semplificare e programmare per evitare di ingaggiare alla fine del programma una corsa contro il tempo per spendere i soldi concessi ed evitare il disimpegno. Il presidente della BIM, Franco Iachetti, replica le richieste formulate dai consiglieri regionali dei Cinque Stelle che vogliono l'abolizione dell'ente. I sindaci mi hanno rinnovato la loro fiducia, ha precisato Iachetti, e dunque il BIM andrà ancora avanti. Ascoltiamo. I Cinque Stelle sono tornati alla carica per la chiusura, per chiedere la chiusura del BIM. Voi, presidente Iachetti, vi siete riuniti con i sindaci. Che è successo? Che cosa è emerso? Mercando ha fatto la proposta di un'eventuale chiusura, però per far capire anche a chi mi ascolta. Il consorzio BIM può essere chiuso in qualsiasi momento dell'anno. C'è una legge nazionale dove dice che il 50 più uno dei comuni in quel momento devono deliberare, perché a mondo è stata fatta una delibera per la Costituzione, quindi occorre un'altra delibera per la chiusura. Mercando sta ritornando alla carica, come è successa nella legge 25 del 2011, sta ritornando un'altra volta alla carica per questa situazione. Noi ieri mattina, insieme ai sindaci, abbiamo fatto una riunione per vedere se c'era questa volontà o meno, però all'unanimità mi hanno detto di andare avanti, di presentare un documento. Domattina ci sarà il sindaco di Crogna Leto, Giuseppe D'Alonzi, di rappresentanza dei comuni, dove consegnerà un documento dove diremo la nostra. Quando il mercante parla di spenghi, ma guarda che noi non prendiamo soldi né dallo Stato, né dalla provincia, né dai comuni, quindi viviamo di soldi privati, lo voglio ribadire, soldi privati. Guardate, il consorzio BIM è un ente utile, è nato nel 1956, parliamo di 60 anni fa, e chiedo ai telespettatori, ma se non era il BIM per ingassare l'ICI dell'Enel 4,7 milioni, chi lo faceva? Domanda. Ma gli altri comuni ingassano l'ICI, ingassano l'ICI? Sabato prossimo, 28 novembre alle 16, alla presenza del Presidente Nazionale dell'ANA, sarà inaugurata la Baita Alpina, la nuova sede dell'Associazione Nazionale Alpini di Teramo. In Viale Cavour nasce dalla ristrutturazione della vecchia casa cantoniera. Vediamo. La vecchia casa cantoniera del Boschetto e al Bivio per la strada che sale a Torricella, a Teramo, diventa la nuova sede dell'ANA dell'Associazione Nazionale Alpini di Teramo. È ovviamente un momento che sarà celebrato con una vera e propria festa, è così? Beh sì, è il minimo che potevamo fare, visto il successo. Dopo tanti anni il gruppo Alpini di Teramo finalmente ha una sede. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha concesso questa sede, l'abbiamo ristrutturata e con la presenza del nostro Presidente Nazionale, Sebastiano Favero, faremo l'inaugurazione. Ci sarà la presenza della figlia della medaglia d'argento al Valor Militare, Renato Molinari, a cui il gruppo è intestato, è quindi un momento veramente bello. Poi faremo la sfilata per Viale Bovio, Corso San Giorgio, sotto al Comune, deporremo una corona alla lapide della Prima Guerra Mondiale, poi la Santa Messa al Duomo e alla Sala Polifunzionale il Teatro Dialettale, la Grande Guerra. Grazie al Teatro Dialettale di Pagliaroli di Cortino, ci sarà il coro alpino Stella del Gran Sasso e finiremo la serata. Il giorno dopo abbiamo l'Assemblea dei Delegati Sportivi Nazionali a Teramo. Assessore Misticoni, viene recuperato un bene importante e caro anche ai teramani. Ma sì, noi siamo fieri di aver potuto concedere, quindi ringrazio ovviamente l'assessore del patrimonio, tutta la giunta che si è dimostrata sensibile alla richiesta degli alpini di poter appunto dare un bene del patrimonio del Comune di Teramo, tra l'altro anche così caro a tutti i teramani, proprio agli alpini. Devo dire che anche per dove si trova, per il locato, sì, ovviamente non potevamo darlo in concessione ad un'associazione migliore che quella degli alpini. Prati di Tivo si mette in mostra nel calendario 2016, voluto e realizzato dalla Siget la presentazione ufficiale e ci sarà venerdì 27 novembre. La Siget ha realizzato il calendario 2016 dedicato ai Prati di Tivo, la presentazione ufficiale ci sarà venerdì 27 novembre. Sì, corretto, il 27 novembre siete tutti invitati alla Biblioteca Melchiorra Delfico, dove faremmo la presentazione ufficiale di questo calendario, che è uno sforzo, un ulteriore sforzo immarcato dentro tutte le attività, le novità che stiamo cercando di intraprendere per il rilancio della stazione. Questo si deve vedere in chiave, un po' collegare il vecchio, il passato con il nuovo, in quanto il 17 gennaio facciamo 50 anni dell'apertura della seggioia, della prima seggioia che è stato il primo impianto e quindi vogliamo dare un'impronta di collegamento con il passato ma rilancio per il futuro e con l'ottimismo che dobbiamo avere per fare queste imprese. Ovviamente ci sono delle bellissime foto dei Prati di Tivo. Sì, questo è una cosa da quale sono particolarmente fiero perché le foto provengono di fotografi amateur che usano e stanno in montagna alcuni anche da generazioni e quindi credo che fa parte un po' di questa dimostrazione di amore. C'è tanta gente che ama quel posto e quindi collabora e aiuta e sono queste le cose che ci fanno tirare pure avanti. Ha riscosso, come di consueto, notevole successo la serata benefica insieme per la ricerca organizzata al Stagionara di Tortoretto dalla delegazione di Teramo della Fondazione Veronesi. Oltre 300 invitati hanno contribuito alla riuscita della manifestazione offrendo un sostegno alla raccolta di denaro per incrementare il fondo della delegazione teramana destinato a finanziare una borsa di 27 mila euro per un ricercatore abruzzese vincitore di un bando pubblico. E adesso occupiamoci di un argomento che in questo periodo è molto a cuore a tutti. Appunto si avvicina alla giornata contro la violenza sulle donne. No alla violenza sulle donne. Contribuisci con un tuo verso. Danza, musica, arte visive, pensiero e poesia, performance delle studentese e degli studenti delle scuole superiori di Teramo. Tutto questo nella sala polifunzionale della provincia di Teramo domani, mercoledì 25 novembre, a partire dalle 16.30. Vediamo. Guendalina Di Sabatino. Danza, musica, arte visive per dire no alla violenza sulle donne. Come? La performance si terrà nel pomeriggio del 25 novembre e ringrazio la Commissione Pari di Opportunità, la Presidente, per aver invitato e coinvolto le associazioni che operano sul territorio, le associazioni di donne che poi sono così poche in realtà. Abbiamo scelto le arti, la musica, la poesia e infatti il titolo è Contribuisci, per dire no alla violenza sulle donne, contribuisci con un tuo verso. Quindi arti visive, musica, danza e poesia. E ci sarà dunque, questa è la cosa importante, il contributo delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori di Teramo guidati e guidate dalle docenti. Quindi ci sarà la performance delle ragazze del liceo coreutico, ci saranno dei commenti di opere d'arte contro la violenza sulle donne da parte degli studenti del liceo artistico, versi poetici degli studenti delle altre scuole superiori della città, il contributo musicale, quindi l'intervento musicale del trio Lancillotto, sono delle giovani musiciste e una performance con il contributo della scuola di danza, la Silfide. Previsioni in Abruzzo. Al mattino poco nuvoloso sulle zone collinare e montane, sereno sulle zone litorane, nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di neve lungo la dorsale appenninica, poco nuvoloso sulle zone orientali, tra sera e notte coperto con locali deboli piogge, specie lungo la dorsale, temperature stazionarie, massime comprese tra 8 e 11 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 14 e 17 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli settentrionali, mare poco mosso in provincia di Teramo. Al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale, nel pomeriggio coperto con locali deboli nevicate sui massicci appenninici, parzialmente nuvoloso sui settori orientali, tra sera e notte coperto con locali deboli piogge, specie sui rilievi, temperature stazionarie, massime comprese tra 10 e 13 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 11 e 14 gradi sulle coste, venti deboli settentrionali, mare poco mosso. Siamo allo sport, cominciamo con le notizie riguardanti il Teramo Calcio. Capitan Speranza, appena tornato dall'infortunio, ha parlato oggi in conferenza stampa del momento della sua squadra e delle parole rilasciate dal patrono Luciano Campitelli. In questi giorni il presidente ha sempre voglia di vincere, ha detto il difensore, e proprio lui ci ha trasmesso questa mentalità che dobbiamo al più presto ritrovare. Dobbiamo giocare ogni partita come fosse una finale. Ascoltiamolo. Anche l'anno scorso abbiamo passato un periodo, può darsi anche un po' simile, quindi forse sì, forse no. Però questi periodi nel calcio ci sono. Dobbiamo essere bravi ad uscirne fuori con tranquillità, calma e soprattutto dobbiamo essere noi compatti come gruppo, tutti insieme e uscire da questa situazione non bellissima. Lo conosco molto bene il presidente, conosco la sua voglia di vincere sempre, la sua passione che ci mette qui nella Teramo Calcio, quindi è normale. Ci deve essere solo da sprono, prendere le sue parole solo da sprono e da aiuto per tutti noi, perché lui giustamente gli piace solo vincere. E deve essere così anche per noi, perché la nostra mentalità è sempre stata questa, comunque è una mentalità abbastanza vincente, derivata anche da lui, soprattutto da lui. Quindi dobbiamo cogliere il suo sfogo, con le sue esternazioni in maniera positiva, solo per far bene e per vincere. Fare nove partite in un mese non è facile, secondo me quella ci ha pesato tanto poi. La mia condizione è iniziato a correcchiare venerdì, quindi stiamo andando giorno per giorno, vediamo un pochino la condizione, i dolori fisici come sono, valutiamo giorno per giorno insieme allo staff tecnico e medico. Dobbiamo essere bravi a capirlo, a capirlo e mentalizzarci su questo, nel senso che purtroppo le squadre ci conoscono, ci conoscono dall'anno scorso, sanno come giochiamo, quindi adottano la tecnica migliore che loro, che nel senso ci aspettano e magari ci ripartano e noi avendo quella voglia comunque di far gol e sempre proposte di andare avanti, magari ci sbilanciamo anche troppo a volte. Anche sì, ma noi come ho sempre detto non abbiamo mai guardato la classifica, però bisogna farlo, nel senso bisogna farlo per, come dici tu, per far scattare questa scintilla e magari dare di più e dobbiamo giocare come se, che ogni partito è una finale, come se retrocedessimo, quindi dobbiamo fare, dobbiamo mentalizzarci in questo ed è normale che noi, giustamente noi più grandi o noi più vecchi abbiamo le responsabilità e quello è poco mai sicuro, ma come ho detto stiamo facendo. Per me la fame è a base di tutto, la voglia di far bene è a base di tutto, sennò è inutile che giochiamo. E adesso vediamo le decisioni del giudice sportivo, una giornata di squalifica, Daniele Celiento della Roborosiena salterà la gara a Teramo Roborosiena, una giornata anche a Riccardo Gaiola del Prato salterà l'Aquila Prato, le designazioni arbitrali, l'Aquila Prato è stata affidata Davide Curti di Milano, mentre Teramo Siena a Luca Massimi di Termoli. Il San Nicolò Calcio comunica che a causa della concomitanza con la gara casalinga del Teramo prevista per domenica 29 novembre, l'incontro San Nicolò a Mitterrina Scoppito, valevole per la quattordicesima giornata di andata, verrà anticipato a sabato 28 novembre alle ore 14.30. Il basket adesso, la Globo Info Service Campli continua a stupire. Nel turno giocato domenica i Farnesi hanno messo al tappeto l'imbattuta capolista Montegranaro. La squadra di Milina si è portata così al secondo posto, a meno due dal primato il servizio. La Globo Info Service Campli fa rimpresa e mette al tappeto la capolista Montegranaro. Sono serviti due tempi supplementari, ma alla fine la squadra farnese riesce ad infliggere i marchigiani il loro primo stop in campionato, una soddisfazione accolta in maniera incontenibile dai tifosi camplesi, presenti in crannumero al Palabor Gognoni. Nel 96-91 finale con il quale si impone Campli sono decisivi i Fattori e Di Giulio Maria, ma sono importanti gli apporti in termini di punti offerti da Serroni, Petrazzuoli e Petrucci, le cui bombe nell'overtime sono risultate importanti per assegnare l'intera posto in palio. La cronaca, dopo un primo tempo all'insegna dell'assoluto equilibrio, è nel terzo quarto che arriva all'allungo di Campli. Di Giulio Maria e Fattori sono devastanti sotto le plance e la Globo Info Service tocca anche il più 13 al 25esimo sul 48-35, ma Montegranaro dimostra comunque di essere squadra forte costruita per vincere e difende il suo primato fino all'ultimo. I secondi finali sono al Cardio Palma, Campli allunga sul più 4 ma il marchigiano Gatti acciuffa il primo pari sulla Sirena con una tripla, 65-65. Si va i supplementari che sono dominati dal nervosismo perché il punteggio resta sempre in bilico. Nel secondo overtime, con la stanchezza che si fa notare sempre di più, sono Petrucci e Petrazzuoli, quest'ultimo con 7 punti di fila, a scavare il solco decisivo. Campli così trionfa e incassa gli applausi dei suoi sostenitori. Intanto la classifica sorride. Adesso infatti i farnesi sono al secondo posto con 14 punti e tallonano a distanza minima la coppia di testa composta da Montegranaro e Falconara. Insomma, anche quest'anno la squadra di Cochimillina può sognare. Adesso l'Handable e le squadre femminili terramani sono state i protagonisti dell'ultima di andata del campionato di Serie A1 di Pallamano. Gomeuro Team Teramo e Globo Almax Biopta Teramo hanno vinto entrambe raccogliendo dei punti fondamentali in chiave playoff. Vediamo. Squadre terramani, grandi protagoniste del nono e ultimo turno di andata che si è giocato nello scorso weekend nel campionato femminile di Serie A1 di Pallamano. Nei quartieri alti della graduatoria vola la Gomeuro Team Teramo che si aggiudica il big match di giornata battendo il Cassano Magnago. Partita equilibrata che si risolve solo nella ripresa quando le ragazze di Serafino Labbrecciosa trovano il break decisivo che vale il 23-21 finale. In virtù di questo successo in classifica la Gomeuro aggancia al secondo posto l'Indeko Conversano che però ha disputato due gare in meno. Sempre in campo femminile bene anche la Globo Almax Biopta Teramo. La formazione di Settimio Massotti sbanca il terreno di gioco di Mestrino per 32-34 e con i tre punti messi in cassaforte torna al ridosso della zona playoff. Ora distante solo tre punti. La partita, così riferiscono le immagini che vedete, è sempre condotta da Teramo che nel primo tempo tocca anche un vantaggio di 5 reti, 4-9 al nono, ma le Padovani rimettono subito il punteggio in equilibrio. All'intervallo la Globo è avanti di una sola rete, 16-17. Nella ripresa il punteggio resta in bilico fino al quindicesimo, poi le Teramani allungano e tornano sul più 4. Un distacco di reti rassicurante che viene gestito fino alla sirena conclusiva. Sotto il profilo delle singole da rimarcare le prestazioni di Fabricatore e Palarie, autrici rispettivamente di 12 e 8 gol. Adesso il campionato di Serie 1 si ferma per una settimana, si torna a giocare il 5 dicembre. In programma ci sono Casal Grande Padana, Globo Almax Biopta Teramo e Gomme Urtim Teramo, Indeco Conversano. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e non perdete come ogni martedì alle 21 l'appuntamento con a tutto campo con Pierluigi Vasile. Buona serata.